Dialogarti Uno dei modi migliori per riuscire a dare respiro alla parola È un luogo dove si parla con altri artisti Qui c'è il dialogo, non è monologarti, è dialogarti 360 gravi Una gran sorpresa Io credo che sia veramente una manifestazione di interazione di arti di tutti i tipi Espressione dell'intimo Arte Bellissima esperienza, un momento di incontro di tanti artisti Grossa forza umana Sto guardando tutto, sto cercando di non perdere niente Di non perdermi niente, ma trattenere tutto è davvero... È stata una bella esperienza di condivisione Siamo contenti di essere stati parte attiva all'interno del festival Bellezza Da ospite è un'esperienza che merita Perché comunque vedi tante arti fuse insieme, non capita tutti i giorni Suggestioni emotive Armonia Una fusione di artisti che si sono conosciuti Hanno stretto legami tra loro Hanno percorso uno stesso tema da punti di vista diversi E siamo molto contenti che la gente abbia partecipato e abbia gradito Luce Dialoghiamoci Insieme e dirsi Meraviglioso Sono ancora emozionata Una bomba d'arte incredibile Una carezza bianca Tante arti Dialogo è bello Molto bello A livello emozionale è una bomba Dialogharti E vita E amore E amore U critica Abono A livello Aduvare Grazie a tutti.